Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi piccola pillola fotografica, parliamo infatti del numero guida. Il numero guida è un numero a cui fotografi fanno riferimento quando comparano i vari flash per valutarne l'effettiva potenza. E' preso che è impossibile infatti capire se un lampo è più potente di un altro ad occhio nudo, per noi una flashata parrà sempre uguale anche se si differenzia da un'altra di differenti stop. A differenza della luce al tungsteno o della luce naturale, anche gli occhi più accurati non possono determinare i tempi di esposizione precisi basandosi su un momentaneo lampo di luce, ed ecco dove entra in gioco il numero guida. Il numero guida si calcola con una semplice equazione matematica. La potenza di un flash è uguale alla distanza del flash dal soggetto moltiplicata per l'apertura dell'obiettivo, il diaframma che si sta utilizzando. Come metodo per standardizzare il processo, per convenzione si utilizzano per il calcolo una sensibilità di ISO 100 su un obiettivo di 50 mm, come punti di riferimento fissi durante la calibrazione del numero guida. Quindi quando stiamo comparando un flash e notiamo un numero guida di 40, questo vuol dire che il flash in questione richiederebbe un'apertura di f4 a una distanza soggetto flash di 3 metri. Questo parametro ci aiuta a confrontare i flash tra di loro. Generalmente diciamo che i flash che hanno un numero guida più alto produrranno un lampo più forte. Quindi se il primo flash ha un numero guida 13 mentre il secondo 43, sapremo che il secondo è più potente del primo. Avere un numero guida alto permette di illuminare la scena utilizzando il flash ad una potenza più bassa, a parità ovviamente di esposizione e distanza della luce dal soggetto. Questo ci permetterà di utilizzare il flash più a lungo in quanto i lampi saranno più deboli e la carica del flash durerà di più. C'è da dire che non tutti i produttori di luci sono così scrupolosi e a volte falsano il numero guida utilizzando ISO 200 come base, aumentando in apparenza la potenza dell'unità flash. A volte può essere veramente difficile capirci qualcosa e ovviamente c'è sempre chi se ne approfitta. Per fortuna con le fotocamere moderne possiamo testare subito il flash facendo delle prove con varie impostazioni per scoprire se la potenza è adatta alle nostre esigenze oppure no. Infatti molti automatismi che abbiamo oggi hanno eliminato gran parte delle funzionalità che avevano i numeri guida nella fotografia analogica, dove era fondamentale fare il calcolo ogni volta si dovesse gestire la luce del flash. Oggi regolare i parametri è molto più semplice e addirittura i flash hanno la funzione TTL che permette di misurare l'esposizione corretta direttamente in camera. Se non siete amanti della matematica quindi potete rallegrarvi e chiudere qui il video. Ma se vi interessa sapere come usare la formula del numero guida, ecco qualche esempio. Abbiamo detto che il numero guida si calcola moltiplicando la distanza della luce dal soggetto per l'apertura di diaframma. Dalla formula principale possiamo semplicemente calcolare le formule inversi. Conoscendo cioè numero guida del flash e apertura a cui vogliamo scattare, possiamo determinare a che distanza dovrà stare il soggetto semplicemente dividendo il numero guida per il diaframma. Il mio flash ha numero guida 60, voglio scattare a f10. Ecco che la distanza del soggetto dalla luce dovrà essere di 6 metri. Ma possiamo anche ricavare l'apertura di diaframma, dividendo il numero guida per la distanza del soggetto. Se vogliamo che il soggetto fotografato si trovi a 4 metri di distanza dalla luce divido il numero guida 60 per 4 e ottengo 15. Potrò scattare quindi a f16. Ricordate che i tempi della fotografia con il flash non vanno mai impostati sotto il tempo di sincronizzazione. Il sincro del flash non è altro che il tempo di scatto più veloce in cui l'otturatore viene esposto completamente. Se appare una barra nera sulla foto vuol dire che il lampo del flash ha beccato la tendina del sensore chiudersi. Il tempo di sincronizzazione, che permette al sensore di essere esposto correttamente per tutta la durata del lampo, di solito è di 1,25 di secondo. Se invece vogliamo impostare la camera per far sì che catturi anche la luce ambientale, in quel caso potremo scegliere tempi più lenti. Tempi di posa più lunghi permettono di riempire le zone d'ombra con la luce ambientale. Se si desira invece utilizzare un'apertura dell'obiettivo più ampia rispetto a quella del numero guida, che abbiamo detto è di 50 millimetri, sarà necessario ridurre la potenza in uscita del flash o spostare la luce più lontano dal soggetto. Se invece vogliamo utilizzare un obiettivo più tele, dovremo aumentare la potenza in uscita, passare un flash più potente, avvicinare le luci al soggetto oppure ricorrere a più di una luce flash. Con un rapido scatto potrete visionare subito sulla vostra fotocamera i risultati e controllando l'istogramma e gli avvisi di sovra e sottoesposizione sarà facilissimo stabilire le corrette esposizioni per il flash. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, se lo è stato mettete un bel like e ovviamente ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e vi do appuntamento la settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Ciao!